Ciao a tutti da Arpapi e dallo stand dell'Italia 4 Zampe Ollus, la voce di tanti prosetti del mondo, allestito davanti a Zomax e vicino anche alla pizzeria di acqua e farina a Priverno. Qualcuno ci ha detto peccato non essere lì vicino a voi, altrimenti saremmo passati a trovarvi. Però risolto il problema, nel senso che io vi voglio far vedere quello che c'è proprio in maniera calma, tranquilla e rilassata sul nostro stand, così se qualcuno vuole se lo può pure comprare. Poi io lo manderemo tramite i corrieri che ci abbiamo, che ci aiutano. Allora bottiglie di tutti i generi, tante tante bottiglie, tantissime bottiglie. Guarda là, faccio un giretto pure dietro, almeno vi rendete conto. Ma questa è solamente la piccola parte di quelle che abbiamo, perché ne abbiamo 500 diverse disponibili. 3.800 invece sono la quantità totale, birre, liquori. Ringraziamo anche i bar che ci hanno sempre dato una mano per la raccolta delle bottiglie, nella zona di Priverno, ce ne sono tanti e è inutile ringraziarli uno per uno, perché poi sicuramente se dimentichiamo qualcuno diventa un po' tutto complicato. Nel frattempo vi faccio vedere tutte le lampade che ci sono, almeno quelle esposte stamattina, oggi 25 di aprile, davanti a Zomax a Priverno e provincia di Natina, con il nostro stand per sostenere le attività dell'Italia a quattro zampe Ollus. Spero di riuscire a far vedere tutte quelle che ci sono, vedi Amaro Del Capo, Molinari, Grappa Off, Jack Daniels, Jägermeister, grande, piccole, tutte le dimensioni. E poi da questa parte invece ci sono i Salvatanai, Salvatanai con sempre le bottiglie. Questa è una cosa davvero nuova, nuova, non l'avete vista mai da nessuna parte, se non sulle pagine proprio dell'Italia a quattro zampe Ollus. Queste le facciamo per sostenere le nostre attività e per essere quello che siamo tutti i giorni, la voce di tanti pelosetti del mondo.